L'hanno ribattezzato Operazione Guardian perché le indagini hanno permesso di far luce sul fenomeno della guardiania nei confronti dei titolari di aziende agricole di Ecate e Niscemi, ai quali veniva imposta l'assunzione con mansioni di guardiani di appartenenti al clan, che grazie al controllo di tutte le attività criminali svolte nel territorio dove erano ubicate le aziende, erano in grado di garantire alle vittime che non avrebbero più subito furti e danneggiamenti che si verificavano prima della loro assunzione. Sono sette le persone arrestate dalla polizia e dai carabinieri a Niscemi in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia Etnea che ha accolto gli esiti della complessa indagine svolta dalla squadra mobile di Caltanissetta. Manette per Sebastiano Montalto, 47 anni, già detenuto nel carcere di Augusta, Francesco Amato, vittoriese di 46 anni e Salvatore Di Pasquale, 50 anni, miscemese, già agli arresti domiciliari. Damiano Rizzo, 37 anni, Giacomo Cultraro, 45, Giuseppe Ferrera, 50 anni e Giuseppe Pisano, 43 anni, tutti di Niscemi. Per gli investigatori fanno parte tutti della famiglia Madonia di Cosa Nostra. Per anni avrebbero messo in atto delle condotte estorsive mediante minaccia di ritorsioni consistenti in furti e danneggiamenti ad aziende agricole e sericultori operanti nei territori niscemesi, acatesi e vittoriesi. Le indagini anche tecniche compiute dalla squadra mobile in collaborazione con il commissariato di polizia di Niscemi iniziate nel febbraio 2010 e conclusesi nel successivo mese di luglio hanno consentito di acquisire elementi provatori in ordine agli episodi estorsivi con il tipico metodo della imposizione del lavoro dell'illecita attività della guardiania ai produttori o proprietari di serre. In quei luoghi i cosiddetti guardiani, avvalendosi della forza intimidatrice tipica dell'appartenenza alla consorteria mafiosa Cosa Nostra Niscemese imponevano il pizzo anche con l'uso delle armi. Parallelamente è stata svolta attività di indagine da parte del nucleo investigativo dei carabinieri di Ragusa a carico degli stessi arrestati i quali operavano imponendo la loro prestazione di guardiania a proprietari di serre ubicate nel territorio di Vittoria. Nell'ambito dell'indagine più volte è accaduto che con le intercettazioni venisse colto l'attimo nel quale avveniva la riscossione della tangente pagata dal proprietario dell'azienda agricola di turno vittima dell'imposizione della guardiania. Il provento dell'attività serviva da un lato per pagare la mano d'opera prestata dagli stessi guardiani circa 1000 euro al mese e dall'altro per il sostentamento dei familiari del loro capo Sebastiano Montalto mentre quest'ultimo si trovava detenuto in carcere. Il particolare interesse della consorteria mafiosa Cosa Nostra Niscemese ed in particolare degli odierni indagati nella gestione della cosiddetta guardiania delle serre operata o nel territorio niscemese ed in quello ragusano ed in particolare nella zona Macconi Marina di Acate aveva anche un altro obiettivo, quello di mantenere un controllo diretto su un territorio storicamente già utilizzato dagli affiliati per nascondervi i loro latitanti. Tra i compiti dei guardiani vi era quello di individuare luoghi che ben potevano prestarsi a divenire covi e a fornire supporto logistico svolgendo il compito di vivandieri ai numerosissimi latitanti che negli anni si sono rifugiati in quella zona. La circostanza è stata confermata nelle digrazioni di numerosi collaboratori di giustizia.